Ciao a tutti ragazzi, eccomi ritornato in questo nuovo video. Sono stato un po' impegnato in questo periodo di Natale, però sono ritornato e oggi faremo un nuovo video. Oggi vedremo come giocare a un gioco di merda! Il gioco in questione si chiama MediHeight ed è nel vero senso della parola un gioco che ha a che fare con la merda, che ci credono o no è così. In poche parole qui abbiamo un ometto che è in procinto di cagare in testa delle persone forse e qui ci sono dei vari alimenti che bisogna mangiare per produrre più cacca. Bene, cominciamo! Qui abbiamo un cursore della potenza di defecazione. Andiamo! Abbiamo anche la possibilità di comandare la cacca, nel senso in cui deve andare. O perlomeno è giusto quel poco che serve per fare strage, che poi non ho capito una cacca come può fare tutta questa bocca. Qui, se vedete qui in alto a sinistra, vedete che vi pagano per smerdare le persone. Andiamo un po'. E possiamo anche realizzare dei bellissimi incidenti con questa merda. Ma proprio una merda! Che io vi dico... Ma ci sono delle persone che veramente si alzano la notte e dicono... Oggi devo fare un gioco di merda! Complimenti comunque! Ah, questa macchina è una sbandata, chissà perché. Però le persone continuano a scappare. Dove cazzo me le andate? Oh, dai! I pali della luce sono fissati con la colla attack. Ah, sì, sì, la posso anche calciare, vabbè. Vediamo cos'altro succede. Anche il pullman, sì, 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 va benissimo. Guarda che faccia, anche le ruote. Va bene, poi? Ah, il paese è distrutto. Chaos totale! Dai, ti ha toccato a malapena! Ah, è possibile anche farlo saltare? No, vabbè. Questo qui gli viene mal di testa. Ancora continuano a scappare. Guarda che è finito, sono qui, sono fermo! Vabbè. Signor Man in Black, mi scusi? Mi vuole vedere la PC, no? Vabbè. Il senso di questo gioco non l'ho mai capito, però... Tutto sommato, è un bel gioco. Dite la verità, è un bel gioco. E che voi ci credete o no, hanno fatto anche il seguito. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al mio canale e se non l'avete già fatto vi invito anche a visitare i miei social da Facebook, Twitter e Instagram con la voce Rayart e Rayart partito passo 89 Vi aspetto in tanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti